Musica Spigati dai centri sociali Andate a fanculo Vincerò questo sorni New York Cocaine è una roba Il prossimo Britannico? Sì Diamo un'occhiata Benvenuto a New York Il prossimo Alla Wattah Il lavoro non mi entusiasma Passo gran parte delle giornate a sturare il caffè E a sturare il cesto Poi io e lei domattina presto dobbiamo uscire in cerca del naso Quindi Passo gran parte delle giornate a morire Meeh Adoro Mia mamma scopa tua mamma Che figlia Grazie signora Oh La campana La quarta strega Io la scopero C'è bordello figa Spacchiamo tutto Un lunascopio Ne ho già cinque Uovo di Ashwinder congelato Ne ho già cinque Un momento Quello è un asticello Vero? Lui non lo può avere Beh Beh Ne ho già cinque Oh Io sono grutto Io sono grutto Io sono grutto Come? Assolutamente Assolutamente no Petrificus totalus Allo mora Quindi vuole rubarlo il denaro eh? Allo mora Sì Sì Scherzi Sì 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 Quel vibratore Sarà mio Perché prima di mia madre Lo usava anche mia nonna È parte della famiglia Che cos'ha nella valigia? Non sono affari che ti riguardano Tu sei un errore della natura La porta dentro Cosa? Ma dentro dove? Rendo le case abbandonate Andiamo? Per l'amor Ho qualcosa di enorme E Milioni di persone devono essere informate del Pericolo Le strane masturbazioni Nella metro Just follow my moves And sneak around Shhh No, don't touch that Ti chiami Però Sono qui per aiutarti Scissi D Sì 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 D V È un miracolo Tu sei Un miracolo è la vera ragione per cui sono in america arrivano siamo i nuovi protagonisti dei pokémon e abbiamo fatto una parte anche di io lo vuole? ok c'erano una volta tre fratelli che viaggiavano lungo una strada tortuosa e solitaria dopo un po' i fratelli giunsero a un fiume troppo pericoloso da attraversare e ai tre fratelli bastò agitare le bacchette per costruire un ponte ma prima di poterlo attraversare trovarono il passo sbottato da una figura incappucciata ma la morte era la morte il ma Gio Gio chiese una bacchetta più bacchettosa di qualsiasi altra omae wa mou shindeiru nani a 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 che problema ha questo pensa dove possiamo arrivare insieme lei sa da 24 ore che un mago non registrato ha liberato degli animali magici non registrato che ce lo viene a dire solo quando un uomo non registrato è stato registrato è un marchio registrato Dov'è quest'uomo? Dov'è quest'uomo? a a a a a a a Buon appetito! Ora vado. Comunisti! La paura, il dolore, i morti! Cyber Salvini 2077 Resignazione, distruggere buonisti e clandestini Abilità, manganellate, ultrasoniche, competenze in qualsiasi ministero Mille volte più forte del Salvini originale Cazzo! 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 Torna a casa tua, il mondo è grande! E' l'unicoide prognostante E' l'unicoide prognostante Cazzo! Non so Non so Tatsumashi 1 3 1 2 3 3 4 6 6 7 7 7 8 Se sentite signori di gemma saprete che siamo arrivati Oh Pino Cosa ci vuoi dire la distruzione in casa mia? Sì, qui abbiamo in questo appartamento che vorrei vedere i più forti alla galassia, poi vorrei Matteo Ti presento intanto Barry, lui è molto molto forte Non ci fai troppo caso Ma il guerriero più forte sta meditando qui fuori Ah CROCAMBUGE Grazie a tutti